Hai paura? Cosa c'hai? Mi entra qualcosa e gli spaccherai tutto, cazzo. Tocca a te la destra! Aia! 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 Calmo! Calmo! Spine, difendimi! Gliela dia una bella multina, gliela dia una bella multina, Giba, gliela dia! Ammazzalo! Non posso, sono... Devo ammazzare io, Pardo! Non mi puoi picchiare! Gliele date, Marco? Lo meno? A chi? Sì? Posso lo darlo? Sì, sì, assolutamente. Il pubblico ha detto, Madonna, tira giù sta mano, tira giù sta mano, che mi fai incazzare, Mi fai incazzare quando mi metti le mani addosso, in una maniera precognola. Prendo io che è meglio. Io non so, mi scatta qualcosa, che i capelli, poi, ti li mette... Avete, caccaa! Magari! Magari! Ma dammene un po'! Prendi, strappami! No, Giba! Ahahahah! Strappami! Strappami i capelli! Strappi! No! No! Prendi lì! Prenditi! Questa disse che mi incazzo, diacement, mi sto andrando! Prenditi, prenditi! Curtiti in testa, Ma! I do Davide Prinditi mentre gli sta cuvendello. Ci sta ridendo in faccia. Ma no! Plattavo! Ci scasso il cranio! Chi fa contare le mille pezzi! Mettiteli! lo stai vedendo in faccia, non mi piace no, prima te li metti i capelli in testa direttore trovi un sostituto dai che abbiamo andato in onda, hai finito il disco questa volta eh